20 passati 10 5 4 3 2 1 vai 100 tornante destro 150 destra 4 meno lunga 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 in sinistra 2 più gira poco apre 100 destra 3 meno corta sconnesso 20 destra 3 meno meno tieni in sinistra 2 più più corta fidati 70 alla pianta sinistra 4 meno meno chiude tieni in subito destra 2 più no taglia 20 sinistra 2 più più corta 70 destra 5 piena occhio interno corta in ritardo a sinistra 4 meno meno tieni in destra 3 meno meno vai 50 sinistra 5 piena 100 destri alla pianta destra 4 in sinistra 5 corta in destra 4 meno tieni corta frena in sinistra 2 più più gira poco per destra 4 lunga no taglia in sinistra 5 corta taglia in destra 5 meno 40 sinistra 5 meno corta 50 accenno sinistro in destra 4 più scende 150 30 30 sinistra 6 corta piena 70 accenno destro in accenno sinistro e sinistra 6 corta piena 100 sconnessi accenno destro scompone 20 destra 4 lunga lunga chiude poco 4 lunga lunga chiude poco 30 destra 6 corta taglia 40 salta attenzione sinistra 3 più a butta fuori 50 accenno destro in sinistra 3 corta lascia sinistra 3 corta lascia bivio destro tieni scende bivio destra 1 chiude molto gira e sinistra 2 più tieni no taglia in destra 1 sporca 20 sinistra 1 sporca no taglia in destra 5 corta meglio di 3 30 destra 1 butta fuori no taglia 20 sinistra 1 chiude 50 destra 3 più più gira salta 100 stacca bene chicane entra a destra 30 sinistra 4 meno chiude subito 3 più corta butta fuori per destra 4 meno lunga diventa apre diventa destra 2 meno molto sporca per sinistra 3 più più gira 50 sinistra 3 20 sinistra 4 meno tieni in destra 2 apre taglia e a bidoni sinistra 4 in destra 4 più chiude 4 meno meno al paletto in sinistra 4 chiude poco lunga 20 ai paletti sinistra 5 chiude 3 al giallo 50 sinistra 5 e subito alla pianta sinistra 3 più più corta per destra 2 meno meno gira chiude ritarda per accenno sinistro per destra 4 no taglia lunga apre al muro e accenno destro 30 destra 4 meno meno corta in fondo in sinistra 4 lunga lunga diventa 3 e chiude 2 al vuoto gira butta fuori vai vai non lo prendi è finito in destra 4 meno meno tieni lunga in accenno sinistro frena in destra 2 più sul ponte 08 mi hanno tolto 4 va bene dai è qua o no si si va bene no no buono c'è ancora qualche staccato in discesa che figa mi hanno tolto non ce ne vado vado da come è capta del 1006 la? che bordo mi hanno tolto ma che è Ehi! Ciao! 5,5, il 36. Manu, cos'è il 30? 5,07. Ci ha dato forse quattro decimi, eh? 5,06, Stefanone. Eh! Grazie. Manuel ci ha dato un secondo, forse. Eh, va bene, dai. Eh, è andato forte, però lui non è... Sinistro. Devo chiamarlo in direzione gara, sennò di là lo prendiamo.